Pagare il biglietto sui mezzi pubblici è una questione di equità oltre che di correttezza. Per questo sono soddisfatto per le iniziative anti-evasione messe in atto oggi da Trenitalia, che in questo caso hanno prodotto oltre 5.000 controlli in tutta la regione, con la scoperta di 600 viaggiatori irregolari, dei quali 430 completamente sprovvisti di biglietto. A dire l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha commentato così l'esito della nuova giornata di controlli intensivi messi in atto da parte del nucleo anti-evasione di Trenitalia, che in questa occasione si sono concentrati soprattutto sulla stazione di Prato Porta al Serraio. Pagare il biglietto, aggiunge Ceccarelli, è un'azione a vantaggio di tutta la collettività, quindi anche del viaggiatore stesso.